Scelti ieri pomeriggio i tre componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda idrica Comuni Agrigentini. I sindaci hanno liquidato la pratica in meno di un'ora, scegliendo tra i curricula pervenuti quelli di Gerlandino Castaldi, che assumerà la carica di presidente, e degli ingegneri Fiorella Scalia, specializzata in ingegneria idraulica, dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Altavilla Milicia, e Osvaldo De Gregoris, direttore tecnico della Sidra di Catania, azienda che opera come servizio idrico integrato. La scelta dei nomi, ha dichiarato la presidente dell'ATI Francesca Valenti, è venuta all'unanimità e dopo un'attenta valutazione dei curricula pervenuti, l'indiscussa e consolidata esperienza della terna scelta, aggiunto, rappresenta un punto di partenza imprescindibile per una sana, economica e prudente gestione che deve caratterizzare il nuovo servizio idrico integrato. Adesso si può procedere alla costituzione dell'azienda speciale consortile, che avverrà domani mattina alle 9.30 nella sede dell'ATI, alla presenza del notaio Maria Orlando di Agrigento. Un compito arduo, quello che attende i tre professionisti che fanno parte del CDA dell'azienda, chiamata da subito a gestire il servizio idrico, superando così la gestione commissariale. La situazione è grave in relazione a quello che è successo in questi anni in provincia e che oggi si riflette drammaticamente su un servizio fondamentale per i cittadini. Ieri, prima della nomina del CDA, la questione è stata al centro di una riunione in prefettura. È assolutamente necessario evitare che i debiti di giurgenti acqua vengano pagati con i soldi dei cittadini. La gestione commissariale rischia di saltare assieme al servizio idrico e a tutto ciò si aggiunge anche il rischio di circa 300 licenziamenti. Lavoratori di ex giurgenti acqua e idortecne che hanno proclamato lo stato di agitazione indetto dopodomani nelle ultime cinque ore lavorative un'assemblea sindacale. Di conseguenza saranno possibili rallentamenti nell'erogazione del servizio idrico. Una situazione esplosiva che già si riflette sull'utenza a Sciacca ma anche in altri comuni. Ormai si registrano disservizi nell'erogazione idrica con turni che saltano e zone in cui l'acqua non arriva anche da una settimana.